Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dall'angoscia, dalla tristezza, dalle ossessioni, noi ti preghiamo, liberaci o Signore. Dall'odio, dalla fornicazione, dalla invidia, noi ti preghiamo, liberaci o Signore. Dai pensieri di gelosia, di rabbia, di morte, noi ti preghiamo, liberaci o Signore. Da ogni pensiero di suicidio e aborto, noi ti preghiamo, liberaci o Signore. Da ogni forma di sessualità cattiva, noi ti preghiamo, liberaci o Signore. Dalla divisione di famiglia, da ogni amicizia cattiva, noi ti preghiamo, liberaci o Signore. Da ogni forma di malefizio, di fattura, di stregoneria e da qualsiasi male occolto, noi ti preghiamo, liberaci o Signore. Preghiamo. O Signore che hai detto, vi lascio la pace, vi do la mia pace, per l'intercessione della Vergine Maria, concedici di essere liberati da ogni maledizione e di godere sempre della tua pace. Per Cristo nostro Signore. Amen. Grazie a tutti.